Ciao ragazzi, se volete rimanere aggiornati sui video di Bancomatti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ciao e buona visione! Ci sono dei prodotti gourmet. Sì, senza sconto difficilmente li vai a prendere. Esatto, perché sono veramente di nicchia, ma pastano da cagli, mi sembra che sono prodotti ITC della Liguria, qualità elevata diciamo, sono prodotti Angelo Parodi. Diciamo che portarli anche sul tavolo di casa nostra a un prezzo da Bancomatti, io sarei veramente soddisfatto. Allora, finiamo subito nell'angolino, passiamo alla grafica. Perfetto, mi ritira il lumina, un attimo sui sconti, cosa fare e come girare. Allora, prima di tutto, sfogliando questo volantino della Coop, dove c'era solo fredda con lo tanto, abbiamo sfogliato un po' le pagine. Esatto. Abbiamo visto questi nuovi prodotti di Angelo Parodi e niente, ci si è accesa un po' la lampadina perché abbiamo visto dei buoni sconto. Anche, ci ha aiutato molto il nostro amico di Sconto Maggio, che ha pubblicato lui l'articolo, ha detto, cacchio, la Dandis è su un volantino. Pam. Sì, e come vedete, questi prodotti qua, nella linea Angelo Parodi, ci sono di tutti i prezzi, da 1, 2, 3 euro e 4 euro. Perfetto. Cioè, non so, hanno dal filetto di sgobro alle sardine, al traccio di torno, al filetto di torno nel sfalto barattolo di vetro che è con il suo patrimonio. Esatto. I prodotti di Angelo Parodi, alla Cov, sono scontati del 30. Perfetto. Tutti, eh? Tutti del 30. Qua ci si è detto, tutti del 30. Andando sul sito, proprio che vi linkiamo sotto, vi lasciamo il trafiletto solo da cliccare, facile. Vi scrivete al loro sito e questa qua è una stampata di quello che vedrete voi. Praticamente troverete, io so, sul filetto di tonno, in olio d'oliva, uno sconto da 1 euro. Il filetto di tonno, in olio d'oliva, barattolo, 1 euro e 50. E già. Sono buone, eh? Sono buone, perché è 1 euro e 50. Se poi il punto vendita, non c'è la cassiera che ha litigato col marito e non si inventa le regole, eh? Non so, guarda. Il filetto di tonno, in barattolo, io ho la pezzatura da 195 grammi. Dice, sì, ok, c'è 1 euro e 50 di sconto. Esatto, quindi costa 5,99. Scontato 4,19 meno 1 euro e 50. Eh beh, non mi ha male. Cosa è? 2 euro, 2,60? Sì. Viene 2,60, quasi due etti di tonno. Eh, le sardine portoghese, l'ho vista anche io, ce l'hai? Non c'è di tonno. Guarda qua, guarda qua, in olio d'oliva. Grammatura? 2 per 70. 2 per 70. E solo qua. Sconto 1 euro. Eh, qua costa 2,80. Quindi passiamo da 3,99 a 2,79 con lo sconto. Più con lo sconto. Meno 1 euro, 1,79. Ok, vi diciamo che questa è quello che vedrete. Voi dovete cliccare, vi comparirà qua da questa parte, stamperete e vi uscirà a fare il buon sconto. Noi non lo abbiamo stampati perché non è che stampiamo a caso. Esatto. Se ci serve il tonno prendiamo e stampiamo, cioè se ti riempi lo schedaro di buon sconto poi va anche a massa perché hai troppa roba. Non hai troppa roba e non la giovi più. Esatto. Però, diciamo, è una bella occasione per risparmiare. È la grandissima. A questo punto io voglio andare a trovare grande. Ok, perfetto. Dopo questa promolampo, direi, un'unica risposta per la matematica. Ci sono tutti i soliti link in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, continuate a commentare e a seguirci, soprattutto sulla nostra pagina Facebook dove siamo molto attisi. Dobbiamo ringraziare Erika. Erika. Nella segnalazione della Provo Cari Fur dei Gelati, la signora Erika ci ha commentato la pagina Facebook con il proprio esempio. Ha ringraziato, ha ringraziato Ibanco Matti, ha ringraziato Sconto Maggio, ha ringraziato la nostra amica Anna Nicosia del portale Risparmiare che un coupon si può. La ringraziamo e questa testimonianza ci ha reso veramente felici. Molto. In quanto quello che facciamo è arrivato al bersaglio. Nel senso, uno di noi, uno di voi, della nostra famiglia, della community del risparmio, ha risparmiato e ha fatto un esempio spesa. In modo che gli altri entrano in fotocopia come noi. Ottimo. Ci ha fatto veramente piacere. Un abbraccio dei Banco Matti. Ciao ragazzi.